E qui nel contesto di McFruit, Novamont, che è un'azienda leader nel settore delle plastiche biodegradabili, ha promosso, ha organizzato un momento di confronto e di approfondimento. Siamo insieme a Giulia Gregori, che è responsabile della pianificazione strategica di Novamont. Allora, di che cosa avete parlato in questo convegno? Nel convegno di oggi abbiamo parlato di quello che è il modello di sviluppo della bioeconomia in Italia. Abbiamo pensato di parlarne insieme agli attori principali della filiera, che sono gli agricoltori, che sono le organizzazioni agricole, che sono i consorzi agrari, che è anche la grande distribuzione, che intorno allo sviluppo delle bioplastiche e dei prodotti a basso impatto ambientale sta creando una filiera virtuosa e di valore per l'Italia. Quindi siamo partiti da Novamont con il modello di sviluppo, che parte dalle risorse rinnovabili e con tecnologie proprietarie italiane brevettate, sviluppa bioplastiche partendo da materie prime del territorio, materie prime nazionali. E quindi producendo bioplastiche lavora insieme ai diversi attori della filiera, agli agricoltori, mettendo a punto soluzioni per diversi settori applicativi. Il telo di pacciamatura è stato presentato un caso molto interessante di utilizzo del telo di pacciamatura per il pomodoro da industria. Sono stati mostrati risultati interessanti sui biolubrificanti, su agricoltura biologica da piccoli produttori. E adesso abbiamo concluso con una tavola rotonda dove anche la grande distribuzione, cioè il rappresentante di Coop Italia, ha raccontato dell'importanza di prodotti che arrivano dall'agricoltura, che abbiano anche un imballaggio di questo tipo e abbiano una filiera costruita in questo modo. Sono temi in linea con le sfide che aspettano l'agricoltura, cioè produrre di più, con più qualità, ma con basso impatto ambientale. Sì, diciamo che abbiamo un po' l'ambizione di contribuire a questa parte degli obiettivi che l'agricoltura ha e crediamo che questi materiali possano aiutare questa produzione a basso impatto ambientale, riduzione dei rifiuti e allo stesso tempo una diminuzione anche delle emissioni di CO2 attraverso l'utilizzo di colture agricole nei processi di produzione delle plastiche. Al convegno qui di Novamont, organizzato nel contesto di Macfrutt, è intervenuto anche Albano Agabiti, che è il presidente di Coldiretti Umbria. In che modo gli agricoltori, in che modo il mondo agricolo risponde a queste nuove tecnologie a basso impatto ambientale? Sicuramente c'è un interesse nell'utilizzazione di questi prodotti che vengono dalle bioraffinerie, in particolare mi riferisco al telo per la pacciamatura e ai biolubrificanti, perché all'interno dell'azienda questo consente di semplificare da una parte le operazioni culturali e dall'altra, nel caso dei biolubrificanti, di avere comunque delle componenti all'interno dell'azienda che non sono inquinanti, quindi anche in caso di perdita o quant'altro non si rischia nulla. Chiaramente l'interesse degli agricoltori è anche però nel produrre sostanzialmente le materie prime per arrivare a questi prodotti da utilizzare nei cicli produttivi e quindi questa viene vista dagli agricoltori come una nuova opportunità per dare valore alle proprie produzioni e al proprio lavoro e quindi la sfida è dai due punti di vista, sia dal punto di vista strettamente del produttore sia da quello di utilizzare dei prodotti innovativi. In terzo luogo, specialmente nel caso di Novamont, chiaramente l'agricoltore ha un interesse ancora più diretto perché una delle fasi industriali è in compartecipazione tra il mondo dell'industria e il mondo dell'agricoltura. Ringraziamo Albano Agabiti, presidente di Coldiretti Umbria e diamo il benvenuto a Luciano Trentini che è il presidente della REFL, che è l'associazione delle regioni ortofrutticole europee e da poco ha interpreso anche un altro progetto, una società Foodies, che è una società che guarda alle proprietà salutistiche dei cibi. Vogliamo capire da lei, dottor Trentini, quali sono le valenze di questo progetto, di questo modello virtuoso di sostenibilità ambientale? L'utilizzo delle plastiche biodegradabili è ormai da diverso tempo che se ne parla e credo che ormai sia finita quella che è la parte sperimentale in quanto tale e siamo passati alla fase applicativa. Naturalmente è in dubbio il vantaggio che si unisce all'utilizzo di questo prodotto perché sono plastiche che non devono essere recuperate, quindi sono compostabili, quindi sono biodegradabili, quindi l'agricoltore non deve fare altro che prenderle e interrarle al momento del fine raccolta. Questo è sicuramente un vantaggio importante dal punto di vista economico. Mette anche in condizione molte aziende di accelerare quelli che sono i cicli produttivi, perché naturalmente prendere la plastica, asportarla dal terreno, pulirla per poi riciclarla è un impegno economico importante, quindi quelli che sono i maggiori costi dovuti all'acquisto del biodegradabile, della plastica biodegradabile per pacciamatura, vengono annullati da quelli che sono i risparmi sotto questo aspetto. Naturalmente la plastica biodegradabile poi funziona come tutti gli altri prodotti, ha un vantaggio dal punto di vista dell'utilizzo dell'acqua, ha un vantaggio dal punto di vista della maggior regimazione dell'apparato radicale della pianta che cresce meglio su una cultura pacciamata rispetto a un'altra, quindi alla fine possiamo dire anche di una maggior produzione. E sul territorio vengono impiegati dagli agricoltori questi materiali? Io credo che abbiamo aziende che ormai sono passate al 100% all'utilizzo della plastica biodegradabile, naturalmente c'è ancora molto lavoro da fare perché certamente non si può convincere il 100% di utilizzare le plastiche biodegradabili, ma diciamo che con un lento progresso sta avvenendo e quindi molte aziende oggi si stanno convertendo e stanno venendo fuori nuove esperienze e anche su culture diverse, come per esempio la pacciamatura dell'asparago, come per esempio la pacciamatura del pomodoro d'industria, una tecnica in passato già utilizzata con le vecchie pacciamature, ma proprio per il problema che dicevo prima del recupero e dello smaltimento poi sono state abbandonate. Quindi sicuramente per un prodotto come la lattuga, per il cocomero, per le zucche, sono tutta una serie di produzioni che possono godere dei vantaggi di questi benefici, soprattutto le culture di secondo raccolto e anche qui vorrei dire che molte volte gli agricoltori hanno coltivato specie in secondo raccolto proprio grazie anche all'utilizzo della plastica biodegradabile perché al momento della raccolta della plastica non aveva necessità di asportarle, quindi era conveniente fare questo. Grazie a Luciano Trentini, restate con noi perché Verde Nord-Est continua.